Cosa è l'autonomia differenziata? Quali sono le competenze che potrebbero passare alle regioni? Cosa sono i livelli essenziali di prestazione? Come verranno definiti ed eventualmente finanziati? E soprattutto, quali saranno le conseguenze sui territori, sui lavoratori e sulle imprese? A tutte queste domande si è cercato di dare risposta nella tavola rotonda promossa dalle organizzazioni datoriali e sindacali d'Abruzzo, incentrata sul disegno di legge dell'autonomia differenziata delle regioni a firma del Ministro Calderoli. Il perché di una tavola rotonda sull'argomento lo ha spiegato Graziano Di Costanzo, direttore della CN Abruzzo, che al Tg8 ha parlato in rappresentanza del coordinamento delle organizzazioni datoriali e sindacali che hanno organizzato l'evento all'auditorio Petruzzi di Pescara. Ne parliamo perché è un tema, a nostro avviso, molto divisivo e molto pericoloso, perché noi corriamo il rischio davvero di dividere l'Italia tra le regioni del centro-nord, che sono più ricche e più sviluppate, quelle del centro-sud, che hanno difficoltà e quindi si corre davvero il rischio di accentuare questa divisione. Le materie oggetto del trasferimento alle regioni sono materie difficili da poter trasferire, parliamo di infrastrutture, parliamo di istruzione, parliamo di energia, parliamo di rapporti con l'Europa. Sulle infrastrutture noi abbiamo fatto una battaglia decennale per avere la rete TNT, cioè la rete europea su tutto il corridoio adriatico che arrivi fino a Lecce. Stiamo ragionando con l'Europa di fare una rete trasversale da Barcellona, Civitavecchia, Ortona, Ploce e dopodiché ragioniamo che questi discorsi si possano fare a livello regionale. Oggettivamente credo che faccia male anche alla competitività delle imprese del nostro Paese. Al dibattito hanno preso parte anche esponenti della politica come il senatore Pidimi, Michele Fina e Antonio Zennaro, vice segretario regionale della Lega, con opinioni differenti sui possibili scenari che l'applicazione della riforma potrebbe delineare nelle singole regioni. Gianfranco Viesti, professore di economia dell'Università di Bari, cosa è l'autonomia differenziata e quali sono i punti a favore e i punti contro che potrebbero riguardare le regioni? È una richiesta da parte delle regioni del nord di avere molte più competenze e molti più soldi di quelli che hanno oggi. Il governo è molto determinato ma il percorso attuativo è ancora molto lungo, prenderà tanti mesi. È un problema anche per gli abruzzesi perché? Perché rende più difficile fare le grandi politiche pubbliche, nel tempo può portare a drenare risorse verso il nord a toglierle dal centro-sud e perché i cittadini non ne sanno niente e il Parlamento rischia di essere spropriato del suo potere di decidere. Quindi è una questione apparentemente tecnica ma invece molto politica importante. Nell'iter politico a che punto siamo? Dunque adesso il disegno di legge predisposto dal governo deve andare in discussione alle camere ma poi il clou sarà quando il governo presenterà le intese fatte con le regioni sulle quali c'è il più totale silenzio e che potrebbero comprendere dalle scuole, le infrastrutture, dall'energia alla sanità, un ridisegno completo di come funziona l'Italia.